Queste uscite a livello nazionale, che ripercussioni possono avere sul PD Terramano? Ma io credo nessuna ripercussione, penso. Ci siamo sentiti, certo fa male naturalmente, c'è una componente importante nel Terramano che fa riferimento a Fassina o ad altri soggetti simili, però io non credo che sul Terramano possano incidere più di tanto. Il successo di Di Primio a Chieti vi preoccupa in vista delle elezioni di Roseto degli Abruzzi del prossimo anno, dove il centrodestra è l'amministrazione uscente? No, non ci preoccupa, ci dispiace, avremmo dovuto vincere e credo che lì ci siano delle dinamiche che noi non siamo riusciti a controllare, però non ci preoccupa assolutamente. A Roseto avete già il candidato? Se ne sta parlando. Qualche indicazione? Una prossima volta magari. Sarà di area ginobliana ovviamente? Sarà di area rosetana, diciamo così, e comunque credo che si andranno alle primarie se ci sono più contendenti. A Terramo non è che state facendo un'opposizione all'acqua di rose, perché questa amministrazione forse qualche decennio fa sarebbe caduta già da tempo. Ma non credo che le opposizioni possano far cadere un governo nella città di Terramo, visti i numeri anche. Quando cade un'amministrazione è perché all'interno ci sono problemi, come nell'altro lontano ce ne sono a Terramo. Noi stiamo facendo la nostra parte, ci proviamo, è molto difficile, problemi sono tantissimi, però ci stiamo anche riorganizzando. Quante anime ci sono all'interno del PD della provincia di Terramo? C'è dibattito come c'è a livello nazionale, le vogliamo chiamare anime, va bene anche due, però c'è molta unione.